Musica Oloferne alza cortesemente la mano per chiedere perché Giuditta gli ha tagliato la testa. Copietta di scienziati sperimenta l'allattamento al seno in ambiente a gravità zero. San Giuseppe e la Vergine giocano a nascondino ma il bambin Gesù essendo omnisciente li becca subito. San Marco becca un immigrato illegale a bordo di una barca di scafisti e lo riporta nel suo paese d'origine. Santa Isabella fa una mossa di giudo alla Vergine Maria. Abbandonato da tutti in piena via Crucis, Cristo considera di autocrocefiggersi per riaccendere l'interesse. San Paolo decapita chiunque lo interrompa o gli racconti il finale del giallo che sta leggendo. Cavaliere ha un'erezione inopportuna proprio mentre si fa fare un ritratto. Il bambino Gesù organizza un incontro con Stanley Kubrick per chiedergli lumi sul finale di 2001 Odissea nello spazio. Uomo compostumi di una sbronza giura che è l'ultima volta che si ubriaca. Cleopatra scopre un trucchetto per rendere turgidi i propri capezzoli. Da non provare a casa. Gesù Cristo e Maria Maddalena danzano sensualmente uno scatenato cia cia cia. San Ezechiele partecipa a un flash mob ma nessuno gli aveva detto che si doveva andare nudi. Frate regala a Gesù un bellissimo gioco dell'oca. San Pietro assiste impotente mentre una banda ben organizzata gli ruba una grossa croce davanti al naso. Gesù implora un angelo cameriere per avere un ultimo drink. Donna sorpresa dal ritorno anzitempo del marito nasconde l'amante ma senza sforzarsi troppo che tanto il marito è miope. San Geronimo registra le proprie riflessioni esistenziali con un registratorino portatile. Gruppo di amici aiuta un concorrente di chi vuole essere milionario nel momento della chiamata a casa. Moglie di contadino tradita si vendica senza pietà del marito dandogli fuoco alle bacche. Grazie a tutti.